Musica 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 2 1 Hello Qui si parla inglese Ancora non sappiamo l'italiano Welcome to Sergio Castelluccio Welcome here in London For Parlando in italiano benvenuto Sergio For woman, for English woman Holly Dopo aver visto la donna che ho stato lì Quale? Quella sul forum Sei una giocatrice? No, non era una giocatrice No, la mia fidanzata, noi non ne parliamo Ah, già fatto No, già fatto Quindi ti devo uccidere praticamente Non sei l'unico A parte gli scherzi Siamo arrivati a Londra ieri nel pomeriggio Oggi ci ha raggiunti Sergio, genio di Tartarughe Per L'evento che si giocherà domani Il main event Day 1B Day 1B, sì, come al solito Ben arrivato Sergio Grazie, ciao Innanzitutto come mai Come al solito Perché preferisci giocare a Day 1B Day 1B, sì Non avere il giorno di vuoto Insomma in mezzo Giocando il Day 1A avrissi il secondo giorno Vuoto, diciamo Vabbè Miniziamo le spese Finchè pago io Day 1B Quando pagherà qualcun altro Magari anche Day 1A E a proposito di Day 1A Fuori già grossi nomi italiani Tipo Luca Pagano Hai avuto modo di parlare con qualche giocatore? No, ma io sono venuto con il Lombardi Qui ci siamo incontrati all'aeroporto Ci eravamo conosciuti a Barcellona E quindi ho parlato con lui Ma nemmeno lui sapeva niente Poi abbiamo avuto notizie qui Direttamente da... Sì Il Loco Benissimo Domani inizierà il tuo torneo La community ti sta già seguendo appassionatamente Ho visto, ho letto il forum qui Vuoi ribadire che ci sono delle... Oppure è un messaggio nuovo da lanciare alla community di poche strade? Non ci sai, ci speriamo bene Ancora non ho sensazioni In genere c'ho sempre prima una sensazione quando deve andare bene o male Adesso sono stato piatto Non lo so Quindi come sempre non facciamo previsioni Però partiamo con, diciamo, un obiettivo minimo che è quello di arrivare bene A dei due sicuramente Certo, certo Come minimo Beh, diciamo che andiamo a giocare nel nostro poker che finora ha funzionato Finora sembra andare tutto bene Ho vinto sempre Ho avuto sempre un buon risultato Quindi continuo per la mia strada Quello che viene ci prendiamo Speriamo di andare più avanti il più a lungo possibile Sicuramente appunto sarà un risultato ancora da incorniciare Ricordiamo Barcioglona Si è arrivato un'altra volta come primo italiano miglior classificato In the money Sì, anche se con pochi rimpianti lì Stavo messo benissimo qui E che cosa ha insegnato un giocatore professista in Castelluccio E' una tappa dell'EPT E' stato un torneo anche quello di alto diverso Deve essere sincero Non è merito, cazzo Non mi ha insegnato niente E' andata così Mi ha insegnato che si può uscire anche in una mano Avere un buono stack Partire con un buono stack E uscire poi Vedere svanire tutto in una mano Perché a volte non puoi evitare di cercare quella mano Anche se ti devi giocare in una stack abbastanza più guardevole Questo mi ha insegnato Ok, allora qualcosa mi ha insegnato Può capitare Perché ho preparato le domande Quindi te le devo fare Dai Prossima domanda è Non me la ricordo più Qualche consiglio che vuoi dare a tutti gli strategisti che ti seguono Sei contento di questa presenza sul forum Ti dà piacere Cavolo, cavolo Mi fa tanto piacere Abbiamo raccolto sul forum di PokerStrategy All'interno di tutta la community Oltre che ha una grande passione E una esaltazione fondamentale Nei confronti appunto alle giorni di tartarughe Anche proprio una voglia di continuare a seguirti E di vedere sempre di più i colori di strategie Anche perché sono l'unico per ora A poter giocare questi tornei così prestigiosi diciamo Quindi speriamo che arrivi presto compagnia Perché gli amici insomma parto da solo molto spesso Perché chi vuoi che mi segua in queste cose in ban Speriamo che arrivi presto qualche membro di PokerStrategy Consigliamo a tutti gli intenzionati al prossimo passaggio Verso anche qualche evento live Di informarci direttamente sul forum In modo tale possiamo anche poi naturalmente organizzarci Produrre informazioni e news e seguirvi sicuramente Magari, magari Altro? Come ti sembra Londra? Bellissimo! Primo impatto bellissimo Come ti sembrava Barcellona? Ma io non ci volevo venire Ma guarda ma molto meglio Ma perché Barcellona non ci sono passato per le vie del centro Mentre Londra per venire un'ora e venti di taxi dall'Arioportola a qui Però siamo passati per il centro a Storbe Ossi davvero meglio Ci assai a Londra E non mancheremo di fare un giro magari con calma Per io dovevo trasferirmi a Londra Sì e poi perché hai cambiato idea? Non lo so Dunque qua hai già degli amici appunto di chitarra, di band Mamma mia Sì sì Qui limitiamo le spese perché mi ospita un amico Speriamo fino alla fine No più lato speriamo che ci sia cazzo Spero che questa fine arrivi Alla fine davvero Sicuramente Un'altra curiosità a proposito di Quella che è l'attività di un giocatore professionista Anche se può sembrare una domanda banale Che cosa comporta per te dover partecipare a un torneo come quello di Londra E poi a un prossimo a livello di calendario tuo Quanto tempo prima hai necessità per organizzarti? Quanto tempo prima entri nella mentalità che dovrai partecipare al torneo appunto qua a Londra? Com'è andato questa preparazione? Lo affronto in maniera proprio spensierata Non è che so con l'ansia Vado tranquillo insomma Io sono uno che poi si piglia i tempi Per esempio a Nova Cotica non penso di andarci se va bene qui Infatti ha già fatto il volo a andare il ritorno Ci ha prenotato il ritorno per il 7 Quindi se va male adesso qualche giorno qui anche perché Londra Merita E da visitare Sì sì assolutamente Per me è top Quindi come avete visto bisogna essere persone normalissime, rilassatissime Ma sì perché no alla fine non si fa niente di eccezionale E come abbiamo visto a Barcellona basta uno schiocco di dita E diventi subito concentratissimo Pronto per ritornare al tavolo Assolutamente E rimergiti E cercare di mantenere la concentrazione durante il gioco Questa è la cosa fondamentale Più cose serve, più informazioni hai Meglio puoi gestire, giocare In conclusione Ora salutiamo anche la Comuniti che ha seguito oggi In maniera copiosa il nostro forum Rimandiamo a domani Seguite ancora più copiosi Copiosi Dobbiamo raggiungere 26 pagine Ragazzi D'altra volta c'è la Tassi A 16 ed è stato un grande risultato 16 17 no perché dice Non lo nominiamo nemmeno 18 pagine questa volta Anche se un bel double up sarebbe andato a Genova Anzi andrebbe a Genova A Genova Quindi vi rimandiamo domani con altri interventi Interviste se il nostro genio si concederà nuovamente Qua siamo certo Da Marco PS Marco Comuniti strategici Poker strategici A domani A domani sera speriamo A domani sera e domani pomeriggio Un saluto a tutti Ciao Buona la prima Grazie